Pronto? Vuoi vincenzi su Ernesto? Eh, hai vincenzi, vincenzi, portami qualcosa da mangiare in un bello caffè bollente. No, no, quello che vuoi tu? Eh, ma c'è la piazza di vino, l'hai vincenzi, fammi resti. Grazie a stare, senti bucciano. Oh, madonna mia, madre, una scarregata di cazzotto in capo, mi sento. Buongiorno, nennè. Siamo riesce, mamma mia. Ma io tengo un olore in capo che mi sto gittando, non so che tu la lucca che stai a me, ma come uno trasi al lucco. E ti vuoi fare una sorpresa? Una sorpresa, tu già hai una sorpresa, quando vieni già hai una sorpresa, che non so mai che succede. Ma tiene sempre una capo, quella che dico io. Io non mi sento, voi capite che non mi sento? Io mi sento musce, musce, non mi sento io. Eh, eh, la capa va calda, scommetto, come al solito, eh. Ma se è musce, musce, eh, te ne ho? Ti ho capito. Tengo una capo che mi gira. Eh, con musce, musce, te siete, si dà te la fa, con viagre, eh. Con viagre. E ora te siete musce. Mia moglie me l'ha fatta, ha detto che io tenevo sempre una capo, sempre una capa. Mi lavorati non ero abituata a certe cose, capite? Eh, avevi queste cose mai viste? Ma vedi come si trova? Come si trova, come si trova? Eh, ah, non vorrei fare, ma non ero abituata. Io non mi sento proprio buono, non mi vedi. Io non so se forse me ne vado a casa un'altra volta. Tu non ti siete buono, io invece mi sento a capo che c'è, ma tra le altre cose, mi sento una fama così anima fresca che io mangiassero le fanno. E' beato a te figlio, ma io invece mi giro il stomaco e tengo certi torcimenti. non mi sono fatto. E' beato a te figlio, ma qui. Buongiorno, dono in anno, ti sei questa roba che ha ordinato che la donna non resta? Uiii, maronno, ma che pensieri gentile che te ne che lo voglioni, po'. Ma che cosa non la fanno, dono in anno? Quella ma non sono riuscita neanche a presentare le panche, guardate come la portate a casa, Un giornale, gli stacchi l'eroggi, un guarnetto, un panzolettino, un caffè, un ruolo. Ah, ci volevo proprio, voi dovessi una bella sigaretta, peccato che non fumo più. Al telefono stai. Ma quando mi hanno chiamato? Chi non ci volevo manco io. Mi hanno chiamato? Sì, ti chiamano sempre, però chi d'avessi a chiamare non ti chiamano mai. Non so, 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 non so. No, è arrivato fuori, ti volevo ringraziato. Ma che mi hai detto, dopo il sera, già facevi giù. Ti hai mangiato tutto qua? Ma che lo serve a me che mi va piano, quindi lo puro l'orecone. Ecco te, e ora ce l'hai qui. Sato, sato che, al dietro della orecchia, non fate guai, ma vado io a barra e i miei figli là. Ma è possibile che le mie giornate andano a cominciare sempre difficili, ma vado io a barra, vado io. Anzi, se vuoi fare, figli me due cornette. Sei, sei cappuccine, quattro cosa, una fettina di torno, è bene che quattro cosa ci ha piaciuto. Una bottiglia di limoncello? E una, no, a cazzo fa questa bottiglia di limoncello. E come lo digerisci tutta sta roba?